Un volontario in ogni quartiere per accrescere la resilienza cittadina. Anche la pandemia ha dimostrato il ruolo determinante della protezione civile, più in particolare dei volontari che si mettono in gioco per gli altri. Chi da sempre lavora in questo campo sa quanto sia importante diffondere e migliorare la conoscenza dei cittadini sui comportamenti da adottare durante una situazione di emergenza, abituando la popolazione a reagire in modo corretto, così da assicurare un'efficiente gestione dell'emergenza da parte degli enti e delle strutture pubbliche preposte. Oggi più che mai, e l'abbiamo visto durante il Covid soprattutto, ci ha fatto capire che ormai la resilienza è qualcosa di importante. Poter reagire da soli, una comunità, significa una comunità che è cresciuta, perché nei primi momenti in cui ci sono le emergenze reali, e facciamo l'esempio del Covid, in quel caso, ma anche nel caso di un sisma per esempio. Chi può dare la prima mano è il cittadino che vive e che sta, ha il vicino che ha problemi o perché è una persona anziana o perché è un disabile allettato. Quindi la formazione è partecipare soprattutto alle attività di volontariato. Si può essere, non c'è bisogno come tanti di noi facciamo, di impegnare anche intere giornate. Si può essere volontari, io dicevo volontari da casa, nel senso che fare un piccolo corso di formazione, nel caso poi che ci sia un'emergenza, un bisogno, sapere che puoi contare quartiere per quartiere su delle persone che ti possono aggiornare in tempo reale, facendo una grande attività, perché guardando il vicino possono subito chiamare chi di competenza per dare al soccorso un aiuto.